Potremmo è meglio in inglese, ok? Potremmo un mese, almeno due mesi, ok? Inizio per il team bisogna migliorare le nostre skill perché bisogna costruire il team Questo è molto importante perché nel volley è il miglior modo di cercare di vincere qualcosa Per questa prima sezione, in mio opinion, sarà difficile perché è normale, è un nuovo team è un nuovo club in Plusliga con molti ragazzi Credo che bisogna cercare di vincere ogni match che sia possibile E' bello, perché ho fatto questa scuola anche nella prima sezione in Dansk e siamo arrivati, ok, nella finale di Plusliga magari questa sezione non sarà la stessa ma, in mio opinion, possiamo cercare di ottenere il nostro obiettivo che, in mio opinion, sarà la play-off e stare nelle migliori 10 team sarà il nostro obiettivo e il nostro obiettivo per questa sezione È un piacere di stare qui, sinceramente È un piacere di stare qui È un piacere di stare qui e il nostro obiettivo qui in Katowice è normale è una città è una città è una città è una città è un clube e abbiamo bisogno di migliorare come la città come la regione perché ho visto che la regione, la città e la città, vogliono crescere e crescere perché e anche per questo motivo hanno costruito questo team e vogliono il nostro team che stanno crescendo ogni giorno